Questo video spiega come gestire i modelli digitali tridimensionali per poter utilizzare stampanti 3D più comuni, a deposizione di filamento fuso FDM e stereolitografiche SLA a resina liquida. Tutti i processi di stampa 3D, indipendentemente da tecnologia e dai materiali scelti, sono processi additivi nei quali il pezzo viene creato per strati sovrapposti. E' quindi necessario avere a disposizione un modello digitale tridimensionale dell'oggetto che vogliamo produrre per poterlo sezionare in strati paralleli al piano di stampa. Il modello tridimensionale per essere stampato deve avere le caratteristiche di un solido. Questa condizione è facilmente ottenibile se l'oggetto digitale viene realizzato partendo da elementi solidi che vengono uniti o modificati con un software di disegno o modellazione 3D. Se invece l'oggetto viene modellato per superfici o contiene altri elementi di disegno tridimensionali non solidi, è necessario verificare che la superficie di contorno sia completamente chiusa. Avendo a disposizione un modello con queste caratteristiche, è necessario salvarlo in un formato compatibile con i software che permettono di affettare il modello e i programmi di slicing. Generalmente questi programmi possono importare diversi tipi di formati di file, ma lo standard più comunemente utilizzato è quello STL, specifico per la stereolitografia. I programmi di slicing permettono la modifica della scala del pezzo importato, ma è sempre meglio fornire per la stampa un modello che sia già scalato nelle dimensioni finali previste, espresse in millimetri. Il file STL viene importato nel programma di slicing, che in molti casi è come ambiente di lavoro una rappresentazione sintetica della stampante scelta per il lavoro. Il modello viene quindi posizionato in automatico dal software sulla rappresentazione del piano di stampa, secondo l'orientamento nello spazio col quale l'oggetto è stato modellato nel software CAD. A questo punto l'operatore deve valutare qualsiasi è l'orientamento migliore per la stampa del pezzo, in base alla sua geometria e alla resa estetica dell'oggetto, tenendo conto della rigatura superficiale dovuta alla sovrapposizione degli strati. Generalmente i software di slicing considerano tutti gli elementi nel file STL come un unico elemento, anche se composto da più oggetti separati. Se le dimensioni lo consentono è possibile stampare più modelli sullo stesso piano di stampa. In questi casi, per consentire all'operatore di posizionare e orientare in modo adeguato i diversi elementi, è necessario fornire file STL separati per ogni modello. L'orientamento del pezzo è fondamentale sia per la stampa FDM a filamento che nella stampa SLA a resina liquida. Nel caso della stampa a filamento con un solo estrusore, l'orientamento del pezzo in presenza di sottosquadri è fondamentale per permetterne la realizzazione. L'orientamento del pezzo, anche se si hanno a disposizione due estrusori, rimane basilare per poter ridurre il materiale di supporto e quindi i tempi e costi di realizzazione. Per quanto riguarda la stampa a resina liquida, un corretto orientamento del pezzo permette l'utilizzo di un minor numero di supporti. L'orientamento corretto determina un minore consumo di materiale e finiture superficiali migliori, in quanto i punti di ancoraggio dei supporti alla superficie del pezzo saranno ridotti al minimo. Nel caso della stampa FDM è fondamentale decidere che grado di finitura superficiale si vuole ottenere, quanto cioè sarà evidente la rigatura superficiale del pezzo. Questa caratteristica dipende dallo spessore dei strati da stampare. Se vengono scelti strati con spessori minori di un decimo di millimetro, la superficie ottenuta sarà liscia. Se invece vengono scelti spessori di uno o due decimi di millimetro, la rigatura superficiale del pezzo sarà più evidente. Questa scelta ha delle dirette ripercussioni sul tempo di stampa che può cambiare sensibilmente. Si deve inoltre considerare che nella stampa FDM, per risparmiare materiale, solo le superfici esterne sono realizzate a strati pieni, mentre il volume interno a queste superfici è realizzato con una struttura a griglia, generata automaticamente da software di slicing. Per questa ragione è necessario valutare se l'oggetto stampato deve avere solo una funzione estetica o presentare anche caratteristiche di resistenza meccanica. In base alla funzione del pezzo, l'operatore adeguerà i parametri di stampa relativi al numero di strati che confongono le superfici e alla densità della griglia di riempimento. Grazie! 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 Grazie!